Cioè, neanche se lo avessi deciso consapevolmente e coscientemente, sei riuscita a creare tutto questo. Cioè, com'era possibile che le cose si incastrassero in questo modo? È la perfezione. Tutti i pezzi sono stati attratti da me in maniera risonante con la frequenza. Benvenuta su Shine, il podcast dove parliamo di crescita personale e spirituale, coaching e mindset imprenditoriale. Io sono Anne, sono una coach e fondatrice di Luna, scuola di coaching per l'anima. Sono qui per aiutarti a conoscere te stessa e a riconnetterti con la tua essenza più profonda, così che tu possa esprimere appieno il tuo potere interiore e far brillare la tua splendida luce. Bene, quindi prima di entrare nell'insegnamento di oggi, voglio raccontarvi una storia legata al Dietro le Quinte, per celebrare le trasformazioni che stanno avendo luogo nella mia vita a livello personale e professionale. Quindi, da dove comincio? Cominciamo dall'inizio dell'anno, dove a inizio anno a me piace fare una proiezione energetica di quello che desidero vivere all'interno di quell'anno. Dunque, di solito a inizio anno non è tanto una pianificazione delle cose da fare, ma innanzitutto è un momento per me di riconnessione con ciò che desidero vivere, come esperienze, come esperienze da appunto attraversare, da sperimentare nel mio corpo, nella mia vita. Allora, tra le varie pratiche che metto in atto, c'è quella di mettere per iscritto 111 desideri. E mi piace il numero 111 perché è un numero angelico. E allora mi dedico uno spazio e un tempo, accendo l'incenso, faccio spazio, creo una riconnessione a me stessa e all'universo, e entro in quella frequenza dove tutto è possibile. Quindi non c'è nulla che è troppo, ma per quel momento mi proietto in questo spazio, oltre il tempo e lo spazio, in cui appunto sento che io stessa faccio parte dell'universo e che quindi essendo parte io stessa dell'universo ed essendo energia, energia attrae energia. Il simile attira il simile. Allora non faccio altro che sintonizzarmi su quel tipo di energia per sentire nelle mie cellule che cosa vorrei vivere e sperimentare in quell'anno, sapendo che tutto quello che arriverà comunque sarà per il mio bene più alto, per la mia evoluzione. Quindi anche eventuali momenti di difficoltà saranno contestualizzati all'interno di una modalità di ricezione che in qualche modo servirà alla mia crescita. Allora quest'anno, a inizio anno, così dal nulla, mi è venuta la sensazione molto forte e interiore di voler frequentare un ritiro in Costa Rica. Dovete sapere che in realtà io non sono mai stata da quelle parti e non sono mai stata in Costa Rica, quindi non ho idea di come sia. Eppure, non so perché, mentre scrivevo questi desideri e quindi mi aprivo alle infinite possibilità, mi è uscita questa cosa. Voglio partecipare a un ritiro in Costa Rica. E l'aspetto interessante di questa pratica è che non è che voi scrivete i desideri per poi andare a realizzarli con quell'energia maschile del fare. Quindi non è tanto una to-do list, ma è proprio una proiezione energetica dove voi lanciate il desiderio e lasciate che l'universo porti a voi. Proprio per questo effetto di frequenze che combaciano, frequenze che rispondono alla stessa maniera e quindi diventa un effetto a calamita. E qualche giorno dopo, non so bene come spiegarvelo, era proprio come sì, mi sentivo totalmente nel flusso, totalmente nel mio, chiamiamolo, destino d'anima, in quello che era giusto che accadesse per me in questo momento, in quel momento, in quel luogo. E allora ho detto, sento il richiamo di andare a guardare su Instagram il profilo di una professionista, di una professionista con cui avevo già lavorato in passato, ma che in realtà non è che osservavo giornalmente. Quel giorno, stranamente, mi viene questa cosa, dico, ah ma andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel suo profilo. E vedo nella sua bio, ritiro in Costa Rica. Dico, no, non è possibile. Ritiro in Costa Rica. Allora le scrivo subito e dico, guarda, ho visto che c'è il ritiro in Costa Rica, voglio sapere tutto. Al che lei mi risponde e dice, ciao Pan, guarda, mi fa piacere sentirti, in realtà ho appena messo fuori la scritta del ritiro. Cioè non abbiamo ancora annunciato nulla e sei la prima a chiederci informazioni. Allora mi manda tutte le informazioni, io leggo il descritto e ho detto, boh, ok, va bene, ci so, questa cosa qua arriva dall'universo, so che fa per me, mi scrivo. E mentre dicevo questa cosa, stranamente dentro a me sentivo eccitazione mista a paura. Era come se sentivo che qualcosa di importante sarebbe successo in questo ritiro. Era come se una parte di me avesse paura perché mi diceva sei davvero sicura che vuoi attraversare questo portale? Sei davvero certa di volere questa trasformazione? Sei davvero sicura di essere pronta a lasciare andare una vecchia parte di te per abbracciarne una nuova? E naturalmente quando si è abituati a un certo modo di essere, a un certo modo di fare che ha funzionato per 40 anni, non è evidente rispondere di sì. Eppure, in quel momento sentivo dentro tantissimo questa paura e quando sento così forte la paura, per me è un segnale che si tratta qualcosa di buono per me. E quando c'è quel segnale vuol dire che sì, la mia anima mi sta richiamando in quella direzione. Quindi non è una cosa che devo mentalizzare o che devo capire, ma si tratta proprio di una sorta di prova iniziatica a cui io posso rispondere di sì o di no. E allora, in quel caso, ho detto ok, ci sono, partecipo. Poi cos'è successo? A un certo punto sembrava che il ritiro non si sarebbe più tenuto, non si sapeva bene parte, non parte, c'è, non c'è. Quindi anch'io dentro me ho detto vabbè, metto da parte questo desiderio, se deve capitare capiterà, se non è il momento non capita semplicemente. Nel frattempo la mia vita personale stava arrivando a un punto in cui sentivo energie fortemente stagnanti. Era come se un po' a livello personale mi fossi un po' seduta e dire ok, adesso che le cose vanno bene le mantengo così. Sapete, un po' una sorta di inerzia che si crea e man mano mi stava portando in una condizione di vita di cui in realtà non ero più soddisfatta perché mi ricordavo anche quando ho cominciato tutto il mio viaggio, quando ho deciso di intraprendere la strada del coaching, quando ho deciso di dedicare la mia vita alla mia missione io volevo una vita in cui sentirmi viva e soprattutto sapevo che volevo un'esistenza in cui ogni giorno potevo sperimentare e assaggiare e vivere nella mia pelle la bellezza di quello che c'è, la meraviglia della vita, l'inaspettato, il nuovo, l'espansione, quello che ancora la mia mente non poteva vedere. Allora, questo periodo di stallo a livello personale mi ha portato a dire Ann, che cosa stai facendo? Vuoi continuare con questa inerzia? Vuoi continuare a mantenere le cose come sono perché in fondo vanno bene? Oppure dici no, aspetta, io che cosa voglio veramente? Io come voglio vivere le mie giornate? Com'è per me sentirmi viva davvero? E allora ho deciso che avrei portato dei cambiamenti, ho deciso di andarmene via dall'appartamento in cui stavo e di darmi finalmente la possibilità di trovare il mio posto nel mondo, che è qualcosa che ho sempre avuto dentro come richiesta interiore, questa ricerca di dov'è che voglio abitare, dov'è che voglio stare, con chi voglio stare, in che modo voglio stare. Quindi abbiamo restituito l'appartamento e abbiamo deciso di fare un momento di ricerca per ritrovare noi stessi individualmente. E quando appunto stavo iniziando a mettere organizzare il trasloco, quindi capire chiudere tutto, dare via ai mobili, anche a livello energetico, chiudere un certo capitolo della mia vita, quella sera ricevo un'email che mi dice il ritiro in Costa Rica si fa. E io ero lì così e ho oh cielo, venero completamente scordata, non mi aspettavo più che sarebbe capitato e invece in quel momento quando finalmente avevo deciso anch'io a livello personale di mettermi in moto di cambiare le cose e trasformare il tutto arriva l'email di conferma che il ritiro si fa. E con la notte ci dormo sopra e la mattina quando mi sveglio dico caspita però fare un viaggio dall'altra parte del mondo in Costa Rica è comunque un viaggio impegnativo che richiede tempo, che richiede soldi, quindi è un peccato quasi andare lì solo per una settimana sarebbe bello allungare il soggiorno e stare giù di più. E mentre pensavo questa cosa di nuovo mi commetto a me stessa e dico sarebbe bello se ci fosse l'occasione di trovare non so un co-living un co-working qualcosa di questo tipo per poter allungare il soggiorno là. Tempo di fare colazione e poi di mettermi al computer apro l'e-mail e vedo che arriva la newsletter di un'organizzazione di una rete di co-working nel mondo a cui io mi ero iscritta non mi ricordo neanche quando ma probabilmente l'anno scorso quindi non avevo mai ricevuto l'oro e-mail quella mattina apro l'e-mail e vedo la loro offerta una settimana gratis in uno dei nostri centri di co-working vado a vedere erano cinque i posti in cui era possibile usufruire di questa settimana guardo i vari posti l'ultimo della lista Costa Rica Santa Teresa no non è possibile cioè proprio stanotte ho lanciato questo desiderio ho chiesto che arrivasse qualcosa per permettermi di star di più tac mi arriva questa e-mail con oltretutto l'offerta di una settimana gratuita casca pennello e dico ok ciò che allunghiamo il soggiorno di tre settimane così resto giù un mese intero ho dovuto fare la candidatura perché poi ti selezionano cioè con questa offerta non è che prendono chiunque aspetto intrepida e la domenica mi arriva la risposta abbiamo scelto te abbiamo scelto te quindi puoi usufruire di questa offerta la settimana gratuita è tua e io dico casco dal pero felice come una pasqua e dico ok perfetto allora andrò in Costa Rica per un mese e nel frattempo mentre succedeva tutto questo io stavo facendo un trasloco continuavo a ricevere segnali dall'universo quindi continuavo a vedere numeri tripli quadrupli quintupli addirittura incredibile addirittura magari nell'arco di 20 minuti prendevo l'auto andavo a fare la spesa e in quei 20 minuti vedevo 50.000 targhe con numeri angelici anche gli dico ok universo va bene sento che sono in allineamento sono sostenuta ti ringrazio e settimana scorsa per concludere tutto questo background magico partecipo a un workshop di embodiment per lavorare sul giudice interno sul superio quindi con la parte di noi più controllante giudicante critica chi lavora con me conosce di che cosa parlo e la mattina mi guardo allo specchio e dico caspita però vedo un po' le rughe vedo la pelle stanca la pelle anche un po' risentita dal trasloco perché comunque in questo scorso mese ad aprile oltre ai vari program che ho tenuto ho fatto anche il trasloco ho trasferito tutta la casa eccetera eccetera e quindi mi sentivo molto stanca e affaticata e mi dicevo caspita sembra che ho acquisito dieci anni in più in un mese partecipo a questo seminario si smuovono cose profondissime a livello interiore di ricontatto con il mio bambino con la mia bambina interiore rilasci emotivi come se non ci fossero domani bellissimo e sento che a livello cellulare qualcosa dentro di me è cambiato e guardo allo specchio e dico caspita ma le rughe sono andate via mi tocco il volto e dico caspita ma che pelle morbida sembra la pelle di un bambino è come se un flusso energetico avesse ricominciato a fluire dentro di me proprio sentivo addirittura i polpastrelli sentivo che erano più lisci più morbidi e dico è successo qualcosa a livello profondo il giorno dopo stessa cosa sono lì che dico aspetta il lavoro interiore ti fa brillare anche fuori torno a casa lunedì accendo il computer metto il mio dito sulla tastiera per il riconoscimento biometrico e il computer non mi riconosce e non mi fa entrare ma come come è possibile provo riprovo riprovo non mi fa entrare accendo il portatile anche lì accesso biometrico metto il dito non mi fa entrare ma qua è successo qualcosa cioè la trasformazione che ho sentito a livello cellulare è avvenuta veramente a livello anche di impronte digitali cioè qualcosa qua è cambiato questa cosa mi ha scioccata totalmente è andata di caspita è successo qualcosa di profondo uno shift interiore ed esteriore e allo stesso tempo le scelte che mi hanno portata fin qua la sensazione di essere supportata e tutta l'espansione che sento dentro mi fanno dire accadrà qualcosa di magnifico in Costa Rica ma in realtà non è semplicemente quello che accadrà lì sento che un processo è iniziato e qualcosa è in atto e questa trasformazione ha cominciato ad avvenire nel momento in cui io per prima ho detto basta basta a una situazione di stallo basta a quella zona di comfort in cui mi sentivo al sicuro ma che non corrispondeva più a quello che desideravo oggi mi trovo qui in un momento di transizione della mia vita dove in realtà non so che cosa accadrà in futuro dove andrò con chi quando come non ne ho nessunissima idea ma quello che sento dentro è che avevo bisogno di questa trasformazione avevo bisogno di smuovere le cose per rimettere in moto l'energia e il problema è che quando la nostra mente cerca troppa sicurezza cerca troppo il controllo in realtà perdiamo vita eppure noi stessi possiamo recuperarla noi stessi possiamo recuperarla partendo da delle scelte quelle scelte che ci fanno paura ma che in realtà sono quello verso cui la nostra anima ci chiama in questo momento sento che è giusto così sento che non è necessario che io controllo il processo per decidere capire perché man mano arriveranno a me i segnali necessari che mi guideranno verso ciò che è la mia chiamata interiore e dunque in questa fase di transizione di cambiamento in questo salto quantico profondo a livello appunto cellulare addirittura che sta avvenendo in me ho deciso di condividere tutto questo con voi ho detto vi porto con me in questo viaggio e vedremo che cosa accadrà vedremo che cosa accadrà ma vi faccio partecipi perché sono convinta che quando noi torniamo a noi stessi stiamo in ascolto e andiamo oltre quelle resistenze a quello che la mente ci dice alle aspettative delle persone esterne a quelle che sono le classiche modalità di vivere comune ecco che ritornando a noi stessi e facendo quei cambiamenti piccoli o grandi che siano ma in allineamento con noi stessi le cose si smuovono l'energia ritorna e l'universo ci sostiene e la manifestazione concreta avviene quindi le cose arrivano a noi per attrazione non più perché siamo noi a dover sempre andare a conquistare con un'energia fortemente maschile a fare 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 e quando troviamo l'equilibrio al nostro interno ci lasciamo anche andare ed affidare ci diamo il permesso di affidarci a noi con fiducia magnifiche cose possono accadere davvero magnifiche cose che vanno oltre all'immaginario e quindi dalle nostre scelte piccole o grandi noi possiamo cambiare la nostra vita e sono quelle scelte che ci fanno paura ma sono quelle scelte che dentro noi sappiamo essere giuste non è mai troppo presso troppo tardi per seguire il proprio sentire e allora la pillola l'insegnamento che voglio portarvi oggi è legato proprio a questo il fatto che quando noi pensiamo al voler far brillare la nostra luce è in primo luogo questo ritornare a se stessi per poter agire in allineamento e la domanda è ma in allineamento a che cosa in allineamento con il vostro sentire il vostro sentire profondo e quando parlo di sentire parlo di questo sentire il sentire del cuore il sentire dell'anima quella voce che tutti noi abbiamo ma che troppo spesso viene in qualche modo offuscata e sovrastata dal chiacchiericcio della mente la mente che cerca la sicurezza la mente che segue le cose logiche la mente che ti dice devi far così devi far cosa quel giudice quel critico quella parte fortemente moralistica anche no che tutti noi abbiamo in qualche modo dentro invece il primo passo è davvero ritornare a se stessi e dare valore al proprio sentire e proprio perché è un sentire solo noi possiamo sapere che è giusto per noi perché solo noi possiamo essere in grado di dire che il nostro sentire è giusto per noi e se lo sentiamo per forza è giusto per noi perché è nostro il nostro sentire è quel nostro modo di ritornare a noi stessi ed è una percezione che non avviene nella mente ma avviene nel corpo e dunque questa riconnessione all'interno per sentire come si muove la nostra energia al nostro interno e il primo spunto la prima pratica se così vogliamo chiamarla fondamentale per riaccedere a questo sentire che non ha bisogno di essere legittimato all'esterno è farsi una semplice domanda che sembra una domanda banale diamoci invece lo spazio ogni giorno di riconnetterci a noi e farci davvero questa domanda io come mi sento oggi che cosa sento nel mio cuore e man mano che vi date il permesso di farvi questa domanda e restate in ascolto della risposta la risposta diventerà sempre più forte state creando quell'opportunità affinché quella voce possa essere riconosciuta da voi ed è l'unico riconoscimento di cui ha bisogno il vostro e allora pian piano quella voce si farà sempre più forte pian piano diventerà sempre più potente e pian piano passerà sempre meno tempo dalla domanda alla risposta pian piano diventerà sempre intuitivo per voi pian piano sentirete subito nel corpo che cosa è sì e che cosa è no sentirete che cosa effettivamente la vostra anima vuole davvero e a quel punto man mano che avrete sviluppato tutto questo sempre di più avrete anche la forza di agire in allineamento con il sentire perché un conto è sentirlo e un altro è dire ok mi fido del mio sentire gli do fiducia gli do spazio e scelgo di affidarmi e quando fate questo le magie accadono infinite possibilità si aprono a voi e l'universo arriva in vostro favore e voi iniziate a manifestare iniziate a manifestare in maniera fluida e senza sforzo andando nella direzione di ciò che desiderate e vedrete che più svilupperete questa capacità che è un allenamento è un allenamento che arriva col tempo più svilupperete questa capacità più la vostra energia giocherà a vostro favore più vi sentirete energiche e più avrete a disposizione ciò che vi serve per fare quello che volete non capiterà più di essere sommersi in cose che non vi piace fare che vi drenano che vi tolgono energie che vi mandano in burnout iniziate a riaprirvi a questo piacere di quello che sentite dentro e iniziate a riconoscerne il potere e la legittimazione il mio invito per voi è di cogliere questi semini che vi sto lanciando e di lasciare che possano crescere dentro per creare il vostro magnifico giardino interiore se ti affascina il mondo della trasformazione e desideri creare impatto attraverso il tuo business allora ti invito a vita da coach il mio workshop gratuito in cui ti guido a vivere e a prosperare con il coaching lo trovi per un tempo limitato su ancoach.com slash vita da coach an scritto a n h con la h alla fine quindi ancoach.com slash vita da coach a Grazie a tutti.